Amici ciao da Linus, vi devo dare una grande notizia, quest'anno il Capodanno d'Italia 1 e con la grande musica di DJ Television Bella moccia, mi raccomando, guardateci, mi son fatto anche il camice da zero, mi son fatto, vai Linus Vai, vai via, grazie Zeba, ma colleghiamoci ora con Fiorello Sì, grazie, parete di destra, quasi tutto pronto, manca qualche pennellata, Amadeus, parete di sinistra Qui Amadeus, la parete di sinistra è completa, la festa a puniziarle, vai Linus Grazie Amadeus, ricordate dunque, domenica 31 dicembre, 22.50, Italia 1, Capodanno con DJ Television Segnatevelo Capodanno con DJ, domani sera alle 22.50 su Italia 1